Pronto? Io sono pronto. Vai. Jump! Ok, allora, abbiamo proposto due fiumi di vinile e due fiumi di vinile sono arrivati. Guardate pure che cosa hanno ricominciato a stampare le case discografiche. Buon segno, buon segno. Abbiamo anche i cataloghi, i cataloghi del rock progressivo italiano che sono arrivati proprio oggi. Per quanto riguarda Reco Store Day, e il nuovo Reco Store Day, ragazzi, che vogliamo far vedere? Volete vedere il picture disc di David Bowie di Ziggy Stardust? Volete vedere la nuova raccolta rimasterizzata su Universal dei Beach Boys? Cioè, qui di cosa, ragazzi, se non volete vedere il vinile del GBH o finalmente vedere il doppio It's Hard del You con brani inediti colorato? Eh sì, ragazzi, qui veramente di cose sono arrivati veramente tante. Anche The Gold Experience di Prince, che ci stanno chiamando tutti quanti. Questi verranno chiaramente venduti, come di regola, un po' più avanti. Allora, guardate qua. Altro oggetto da non trascurare assolutamente. Il doppio dal vivo inedito di Miles Davis, con la chitarra John Schofield e Bill Evans, l'ex tassofonista della Mavish New Orchestra. Qui, ragazzi, siamo veramente su livelli clamorosi. E poi, la bomba atomica, il live dei Pergem, che ne abbiamo preso una carrettata. Per cui, come vuole vedere questo? Sto rimentinando questo. Vogliamo far vedere il disco più importante della settimana, di novità? L'album degli Smiley, Tom York e The Radiohead. Finalmente è arrivato. Poi, qui che vogliamo far vedere? Vabbè, questo tanto lo facciamo. Ah, mi trolla tutto. E guarda, guarda, non c'è niente. Non c'è niente, perché qui c'è anche Elvis. Visto che sta uscito il film, ti pareva che non arrivava la compilation il giorno stesso. Caso strano, perché? Attenso. Non ti preoccupare, non c'è nulla. C'è nulla, non c'è nulla. Allora, che vi possiamo far vedere ancora? David Bowie, l'Half Speed Mastering. Eccolo qua, eccolo qua. Eccolo qua, Roberto. Eccolo Roberto, adesso si prende 42 dischi, ragazzi. Tutto quello pubblicato. Anche Bet Horton, i due mini Bet Horton, Prego Stor Dei. Insomma, nelle prossime ore pubblichiamo tutto quanto su www.pinistacchia.com Due film che abbiamo preso e due film sono arrivati.